Ultimi giorni per rinnovare i permessi di accesso alla ZTL per i residenti del centro storico. Per i ritardatari c'è tempo infatti fino al 30 novembre per completare la procedura che riguarda due categorie di pass, quelli A1 e A2. Per procedere al rinnovo il titolare del primo permesso, quello di categoria A1, dovrà presentare il modulo di domanda compilato dal richiedente, una fotocopia della propria patente di guida e del libretto di circolazione del veicolo insieme al contrassegno cartaceo in originale. Per quanto riguarda la categoria A2 c'è una novità. Dallo scorso primo giugno infatti dovrà essere intestato alla persona che utilizza effettivamente il permesso. Il rinnovo può essere fatto online dopo l'iscrizione al portale della metro. Una volta terminata la procedura, ricevuta la cifra da pagare ed effettuato il pagamento, l'utente potrà recarsi a ritirare il contrassegno all'ufficio di via delle città gemelle. Per il rinnovo in presenza è necessario prenotare un appuntamento.